in questa terza parte vedremo degli esercizi più impegnativi e tipici di una seria prova di esame le difficoltà che potrebbero apparire in questi esercizi sono soprattutto di natura matematica perché le tecniche che vedremo all'opera di solito sono trattate verso la fine del quinto anno del liceo scientifico il seguente è un esercizio tratto dal libro quantum il terzo volume edito dalla sei editrice un conduttore ab lungo due metri e con massa 800 grammi scivola in caduta verticale con attrito trascurabile lungo due guide metalliche verticali collegate da una resistenza di 2 ohm come mostrato in figura perpendicolarmente al piano delle guide agisce un campo maggiore magnetico con modulo di 0 5 tesla calcola la massima velocità di caduta del conduttore trascurando la resistenza dell'aria la volta scorsa abbiamo analizzato un problema simile e la bacchetta era tirata da una forza variabile che le permetteva di assumere di volta in volta una velocità costante adesso invece questa guida è verticale e questa bacchetta è agganciata a questa guida e scivola stiamo trascurando la resistenza dell'aria stiamo trascurando la forza di attrito della bacchetta in corrispondenza di queste guide mentre scivola e stiamo anche trascurando un'altra cosa cioè a mano a mano questa bacchetta scivola la resistenza complessiva del circuito aumenta in quanto aumenta il suo perimetro e allora vediamo quali sono i fenomeni in gioco uno l'abbiamo già discusso la volta scorsa e cioè la presenza di questa corrente indotta data da questa relazione è dovuta al fatto che abbiamo un conduttore che si muove in presenza di un campo magnetico e abbiamo visto la volta scorsa che ai capi di questa bacchetta in moto appare una forza elettromotrice questa forza elettromotrice risulta essere la seguente e può essere calcolata o con la legge del flusso oppure attraverso la circuitazione della forza di lorenz lungo il circuito in ogni modo questa è la corrente indotta e questa corrente indotta istante per istante dipende dalla velocità velocità la quale adesso non è più costante oltre a questo fenomeno venne un altro di natura prettamente meccanica e cioè la caduta della bacchetta per effetto della forza di gravità se scegliamo un asse y diretto verso il basso troviamo che su questa bacchetta agiscono due forze una è la forza di gravità mg e concorde all'asse y quindi consideriamo questa componente positiva ma a causa della presenza della corrente indotta abbiamo visto nel primo video dedicato alla induzione magnetica esiste una forza che si oppone pari a ilb il segno meno qui è dovuto al fatto che questa forza è antiparallela al nostro asse y quindi su questa bacchetta agiscono istante per istante due forze la forza di gravità è questa forza che dipende dalla corrente indotta e che svolge il ruolo di una sorta di attrito magnetico quindi abbiamo due equazioni e sono equazioni particolari in quanto le incognite non sono dei numeri ma delle funzioni cioè la v e la i variano nel tempo in particolare la seconda equazione è detta equazione differenziale perché vedete qui appare la derivata della velocità rispetto al tempo quindi quando in una equazione appare una funzione incognita insieme alle sue derivate l'equazione prende il nome di equazione differenziale quando avete un'equazione differenziale dovete anche avere quella che si chiama condizione iniziale cioè dovete sapere quanto vale quella funzione incognita ad un certo istante e supponiamo che sia questa la nostra condizione iniziale queste due equazioni sono dette anche accoppiate perché le funzioni incognite appaiono in entrambe le equazioni qui vedete la v e la v qui vedete la i e la i quindi le due funzioni incognite sono presenti in entrambe le equazioni dal punto di vista fisico significa che gli aspetti di natura meccanica del fenomeno cioè il motto della bacchetta è intrecciato a quello elettromagnetico cioè la corrente e si modificano a vicenda come procedo alla soluzione di questo sistema di due equazioni prendo la i da questa equazione e la sostituisco qui dentro e trovo questo risultato a questo punto ho trovato una equazione differenziale in cui l'incognita è soltanto la velocità e devo provare a trovare la velocità chi ha esperienza davanti a questa equazione a vista capisce subito che cosa accade e sa che la velocità aumenta con andamento esponenziale per un po di tempo e poi a lungo andare raggiunge un valore costante pari a questo valore qui cioè 15.7 metri al secondo voi però probabilmente non avete esperienza e di fronte a questo tipo di equazione differenziale non sapete che pesci prendere per questo motivo ho preparato un intermezzo matematico dopodiché ritorneremo di nuovo qui e vedremo che in effetti è piuttosto semplice risalire alla soluzione di questa equazione per il momento diamo un'occhiata a questa equazione differenziale insieme alla sua condizione iniziale questa qui è una equazione differenziale che appare spessissimo sia in fisica che in matematica e sicuramente l'hai incontrata già diverse volte f in questo caso rappresenta una qualsiasi quantità che varia nel tempo a t uguale 0 essa vale 0 e h in questa equazione risulta una costante qui abbiamo un'altra costante tau e si misura in secondi per quanto riguarda h questa costante le sue dimensioni sono le stesse di f qualsiasi cosa sia f al secondo a partire da questa equazione differenziale e qualunque sia il significato di f di t data questa condizione iniziale e ci accontenteremo di accettare questo risultato il collega di matematica poi un domani mostrerà come ci si arriva a questa soluzione si può dimostrare dicevo che la soluzione questa qui e per verificare che sia proprio questa quello che bisogna fare è prendere f e sostituirla sia qui che qui quando la sostituite qui dovete effettuare la derivata rispetto al tempo eseguite questi calcoli e verificate che davvero il primo membro sarà uguale al secondo membro questo è l'andamento della f al passare del tempo possiamo notare alcune cose che per t uguale 0 è elevato a 0 fa 1 1 meno 1 fa 0 quindi f di t a t uguale 0 vale 0 e abbiamo riprodotto la condizione iniziale ma che cosa accade al regime al regime significa dopo molto tempo cioè quando t tende a infinito per t che tende a infinito l'esponenziale vale 0 e quindi il risultato è t per h cioè la f tende a un valore costante in questo caso la derivata di f rispetto al tempo per t che tende a infinito tende a 0 ed ecco il tipico andamento della f di t al variare del tempo questa è una tipica curva tracciata per tau pari a 5 secondi se avessi scelto un numero più grande di 5 avrei ottenuto curve via via più lente a salire invece per tau più piccolo avrei avuto un andamento più ripido il valore al regime si sarebbe ottenuto più rapidamente e sotto vi mostro anche l'andamento della derivata prima rispetto al tempo di f che ha quest'andamento e questa la sua espressione da questo momento in poi questa equazione e la sua soluzione faranno parte del nostro bagaglio vediamo adesso qualche caso pratico in cui ci siamo imbattuti in questa equazione questo è il cosiddetto moto del paracadutista qui abbiamo il nostro paracadutista che si lancia da una certa quota e a t uguale 0 a una velocità pari a 0 quindi si lancia da fermo e su di esso agiscono quali forze la forza peso e la forza resistente dell'aria che si può assumere entro certi limiti come proporzionale alla velocità se assumiamo l'asse y diretto così e proiettiamo queste forze lungo quest'asse abbiamo che questa qui è una componente positiva questa è negativa e quindi possiamo scrivere che la differenza di queste forze cioè la somma delle forze che agiscono su questo punto è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione divido tutto per m giungo a questa equazione e questa equazione già noto che somiglia tantissimo a questa se uno fa coincidere la f con la v la h la fa coincidere con la g e uno su tau lo fa coincidere con b diviso m cioè tau è questa quantità e quindi posso usare questa soluzione a facendo coincidere le varie grandezze allora posso scrivere v di t uguale tau tau abbiamo visto m diviso b per h cioè per g e poi questo termine abbiamo trovato la velocità istante per istante come abbiamo fatto prima proviamo a mettere 0 qui l'esponenziale mi da 1 1 meno 1 0 e quindi la velocità t uguale a 0 vale 0 in accordo con la nostra condizione iniziale allora abbiamo il nostro paracondutista che parte da fermo ed è a t uguale a 0 soggetto ad un'accelerazione che vale g e quindi la sua velocità comincia ad aumentare l'aumento di velocità farà aumentare questo termine e quindi farà diminuire l'accelerazione quindi la velocità del nostro paracondutista continuerà ad aumentare ma sempre di meno ma questa quantità l'accelerazione complessiva diventerà più piccola e quindi qui ci saranno due effetti concorrenti cioè la velocità che tende a aumentare questa variazione che tende a diminuire però provoca ancora un aumento di velocità e quindi a lungo andare ci sarà un momento in cui la velocità moltiplicata b diviso m sarà uguale a g in questa condizione l'accelerazione vale 0 e quando vale 0 la velocità smetterà di aumentare è chiaro che ad un certo momento si raggiungerà lo stato stazionario cioè lo stato in cui la velocità non cambia più diremo in quel caso che si è raggiunta la velocità limite oppure la velocità a regime la medesima spiegazione si applica per altri fenomeni descritti dalla stessa equazione differenziale vediamo un altro esempio forse più familiare perché più recente abbiamo un circuito rc sappiamo che grazie a questa differenza di potenziale presente ai campi della batteria sul condensatore si accumuleranno delle cariche e quindi avremo una differenza di potenziale pur ai capi del condensatore in questo caso l'equazione i per r è uguale alla differenza di queste differenze di potenziale quindi è delta v meno q diviso c ora mi ricordo che la i è dq su dt divido per r cambio di posto questi due termini e giungo a questa equazione questa equazione ancora una volta somiglia tantissimo a questa qui anzi è la stessa solo che al posto di f c'è q e al posto di tau troviamo rt e al posto della costante h troviamo delta v diviso r e le condizioni iniziali state attenti sono le stesse quindi io posso prendere questa soluzione per trovare la soluzione di questa equazione differenziale cioè mi viene detto di moltiplicare tau per h tau e rc anche quest'altro moltiplico e ho trovato questa soluzione che dovrebbe esserti familiare io adesso potrei trovare anche la corrente la corrente l'abbiamo detto è dq su dt e quindi trovo un'altra espressione che dovresti riconoscere che questa qui non è finita qui altro esempio che dovresti aver già visto circuito rl ancora una volta i per r è uguale alla differenza tra questa differenza di potenziale è quella che si instaura ai capi dell'induttanza rimettiamo in ordine questi termini per arrivare a questa equazione e questa equazione insieme a questa condizione iniziale è proprio questa solo che adesso f è proprio i 1 su tau r diviso l cioè tau e l diviso r h è questa e quindi si giunge a questo risultato che dovresti già conoscere noi siamo partiti da questa equazione e adesso abbiamo sufficiente esperienza per poter dire come è fatta la soluzione perché v è la f che abbiamo visto finora e tutta questa quantità è l'inversa di tau e poi abbiamo g che è la costante h se mettiamo insieme queste cose si arriva a questa espressione a regime per t che tende a infinito abbiamo visto che questo termine vale 0 e quindi la velocità di regime è questa qui e io l'avevo già calcolata in genere la velocità di regime si trova ponendo uguale a 0 la variazione di v e quindi risolvendo questa equazione rispetto a v una volta trovata la funzione velocità possiamo ricavare la corrente indotta questa abbiamo visto è data da questa espressione quindi non mi rimane altro che inserire questa relazione qui dentro e si trova questa osservando la soluzione per la corrente notiamo che a t uguale 0 essa vale 0 un'altra cosa che può non apparire evidente è il fatto che la corrente indotta a regime non dipende da r la corrente vedete dipende da r qui al denominatore ma la velocità dipende a sua volta da r per cui nella i vi sono due fenomeni concorrenti che tendono uno ad aumentare con r cioè la velocità e uno a diminuire con r e questi due si compensano ed ora passiamo a svolgere delle considerazioni di carattere energetico abbiamo visto che questa bacchetta precipita e quindi converte energia potenziale in energia cinetica se non ci fosse questo attrito di natura magnetica cioè questa forza allora la bacchetta scenderebbe di moto uniformemente accelerato e la velocità avrebbe un'espressione del tipo g per t in questo caso accadrebbe che l'energia meccanica totale mentre la bacchetta cade rimarrebbe la stessa e noi avremmo una completa conversione di energia potenziale in energia cinetica adesso invece la bacchetta è frenata quindi ad una diminuzione di energia potenziale non corrisponde un pari aumento di energia cinetica per cui la domanda a questo punto è dove va a finire l'energia cinetica mancante e a questo punto interviene questa quantità la resistenza r infatti sarà proprio la resistenza a dissipare questa energia cioè l'energia che manca è spesa per mantenere in circolo la corrente indotta questa a sua volta grazie alla resistenza e all'effetto joule riscalderà il circuito quest'ultimo infine cede energia all'ambiente esterno tramite i meccanismi di irraggiamento conduzione e convenzione questo discorso qualitativo dal punto di vista energetico può anche essere fatto in maniera più dettagliata e quello che voglio mostrarvi è appunto che continua a valere il principio di conservazione dell'energia tra l'energia meccanica che scompare e quella che appare invece sotto forma di effetto joule per cui adesso andremo a trovare quanta energia viene dissipata dalla resistenza al secondo e poi andremo a trovare quanta energia meccanica scompare nell'unità di tempo e queste due quantità devono essere uguali questa relazione qui è la relazione esistente per l'effetto joule nel caso di conduttori ohmici la i l'abbiamo trovata ed è questa qui si tratta di elevarla al quadrato e moltiplicarla per l e questo è il risultato ed ora preoccupiamoci dell'energia meccanica dissipata ogni secondo l'asse y è orientato verso il basso l'energia meccanica è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale e andiamo a trovare la derivata dell'energia meccanica rispetto al tempo qui state attenti poiché abbiamo preso l'asse y diretto in questo modo allora abbiamo un segno negativo se vado a calcolare questa derivata la derivata di questa qui rispetto al tempo è questa la derivata dell'energia potenziale è quest'altra ora notate che questa qui è per definizione la velocità per cui ho questa espressione nella quale trovo una velocità qui e anche qui quindi posso mettere in evidenza v e l'ho fatta qui trovo che la variazione di energia meccanica per unità di tempo è questa espressione d'altra parte io ho anche questa equazione l'abbiamo incontrato in precedenza e quindi se porto questa quantità a primo membro trovo proprio questa quantità in parentesi cioè questa quantità qui è negativa ovvero proprio quello che già sapevamo cioè questa variazione è negativa cioè stiamo perdendo energia meccanica la sostituzione l'ho fatta qui moltiplico e trovo questa espressione ho quasi finito al posto di v ci metto l'equazione che già ho trovato prima cioè questa e quindi sostituisco elevo al quadrato semplifico trovo questa espressione questa espressione a parte il segno meno è proprio la potenza che ho trovato prima e che viene dissipata dalla resistenza e chiudiamo con questo ultimo esercizio un'asta conduttrice lunga un metro ruota in senso orario con velocità angolare costante di 300 radianti al secondo intorno a un suo estremo mentre l'altro estremo scorre su un conduttore circolare come mostrato in figura utilizzando una resistenza di 1200 ohm si osserva un'intensità di corrente indotta di 85 milliampere calcola il modulo del campo magnetico che agisce abbiamo questa sticella che sta ruotando in questa direzione e si muove in presenza di un campo magnetico che è interno abbiamo visto che ciò provoca una corrente indotta che per definizione è data dalla seguente relazione forza elettromotrice diviso r come si può trovare la forza elettromotrice si può usare la legge del flusso oppure la seguente cioè la circuitazione lungo il circuito di vb vettor b dove vb è la velocità dell'elemento di circuito in moto abbiamo visto che vb è diverso da zero soltanto lungo la bacchetta mobile invece questa parte di circuito e anche quest'altro sono fissi e quindi vb vale zero prima di procedere all'integrazione scelgo un senso di percorrenza lo scelgo con la regola della mano destra come abbiamo imparato nel video precedente e quindi è così i vari di l li prendo orientati in questo modo per quanto riguarda vb è la velocità di ciascun tratto e allora dovrebbe essere chiaro che ogni tratto si sta muovendo di moto circolare uniforme quindi con velocità omega per l in cui l è la distanza dal punto o all'elemento di l che sto considerando e quindi per quanto riguarda il vettore vb vettor b è facile riconoscere che è un vettore orientato in questo modo cioè nella stessa direzione di dl per cui metto insieme queste cose vb vettor b e omega l per b poi per dl per coseno di zero quindi devo calcolare questo integrale che è piuttosto semplice visto che omega e b sono costanti si tratta dell'integrazione di l di l tra 0 ed l l è la lunghezza di un metro cioè il è la lunghezza della barretta e si trova questo risultato quindi ho trovato la femma questo risultato lo porto qui e siccome conosco la i indotta da questa relazione posso ricavare b ed è stato fatto qui e il risultato è di 0 68 tesla e con questo è tutto alla prossima